Le biciclette truccate esistono e noi oggi abbiamo una prova. L'ho provata, vi posso dire che se io corressi con questa bicicletta potrei vincere dall'Italia al Giro d'Italia nonostante io abbia 50 anni. E adesso vi facciamo vedere il meccanismo. Spingendo questo bottone si aziona il meccanismo. Come vedete la bicicletta è apparentemente uguale a quelle tradizionali. Vai! Vedete? Va da sola. Non si ferma più, anzi va sempre più veloce la ruota. E adesso spingendo questo tasto posso bloccare la pedalata assistita. Come funziona questa bicicletta? C'è una batteria nel tubo vicino alle piedivelle, non si vede assolutamente niente e quando tu pedali e azioni questo bottoncino la bicicletta ti parte. È una roba impressionante. Ma qual è la velocità massima? Io penso che io potrei andare a 60 all'ora con questa bicicletta in pianura. E qualche corridore l'ha usata? Chi ce l'ha data questa bicicletta ci ha detto di sì.